Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io mi chiamo Simone Galaffano Oggi sono in un nuovo video dove gli abitiamo di reagire, cioè prova a non godere con ancora i bagnetti Sono stati bellissimi, sono sempre soddisfacenti Un'info, un'info Allora ragazzi, sul video della, come si può dire, sul video quello speciale di Fortnite E che avevo detto, mi pare che ve l'avevo già accennato che cos'era su GTA Ma comunque, sullo video di GTA, l'ultimo che ho fatto, ho detto che questo sarà il giorno dopo Ma in realtà no, ci sono stati delle imprevisti, cioè erano tutti i miei amici occupati Quindi non si poteva fare niente Anche oggi, domani sarò occupato io, quindi non farò un video domani Aspetta, domani sì, perché domani uscirà ragazzi Sentite bene? Thanos su Fortnite Sì, lo so, è bellissimo Thanos, ma comunque ci penseremo domani Quello che vi ho detto è di già tutto, passiamo a godere con i magneti Ci vediamo a godere Ok ragazzi, questo è sempre il canale, è sempre lo stesso che ho scoperto che è italiano È sempre lo stesso il canale, quello che ho voluto faccio Quindi ragazzi, la torre degli Avengers Sono attacco Sotto attacco Scusate, ho letto un po' male Sono a una cerata distanza Sotto attacco Vediamo Ah ok È costruita da magneti Ha colpito Thor Ah ci fa vedere Thor Iron Man Ci fa vedere come costruisce Ok, vediamo, vediamo come si costruisce Ragazzi, è soddisfacente È soddisfacente Non è più prova a non godere Di già il sono Ho goduto abbastanza Cioè Ma è bellissimo È bellissimo raga È come si può dire È bellissimo Così bello Aspetta, scusate Mi è caduto il microfono Così bello Da proprio Godere Godere Ok Ok Sto costruendo proprio La base È che soddisfacente Ma vabbè Ma questa si chiama magia nera Ma come Ma 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 proprio Perfetto Limita Limita Ma quanto ci metterà Questo Cioè Questo signore Quanto ci metterà È bellissimo È bellissimo È bellissimo Raga Poi non parlerò tanto Perché Mi devo Cioè Vi voglio fare godere Anche a voi Perché Se godo solo io Che vi do Pura Forma geometrica Questo è metallo Questo è metallo Aia che male Però Questa cosa non è soddisfacente Questo è metallo Che si collega I magneti Buono Perfetto Ehi la Limita Limita Oh Questa cosa Io l'adoro Cioè Guardate Proprio Non ci credo Che però Farla scritta Cioè Va Non ci credo Ma sicuro lo farà Sicuro Perché Lui Cioè Questo signore È troppo bravo Troppo bravo lui Ok Però Metto Come Come Sottrattere Il basso Io lo so Che è così Però Come si fa Mentre il tetto Non me lo ricordo Cioè Com'è Ok Qui Proprio Qui bisogna Sare attenti Perché Potrebbe Crollare Tutto Perché Lui Ha creato Proprio Un pavimento Ok No Il logo Mette ora La scritta Vabbè Raga Non è che Si poteva Fare Di meglio Ironman Con i Lego Anche Dall'altro Ovviamente Lato Spiderman Che No Vabbè Con i Lego Ovviamente L'unica Cosa Gli unichi Piccoli Giocattoli Che Va Scusate Raga Per il rumore Ma ho la Zanzariera Cioè Ho la Zanzariera Quindi Perché Fa un caldo Da morire Con i Lego Sono gli unici Comunque Giocattoli Che Sono Troppo Piccoli No Vabbè Guardate Cioè E' qua E' qua E' qua Che mi stupisce E' qui Quella Quella cosa Che esce Fuori Cioè E' bellissimo Soddisfacente Non parlerò Non parlerò Ragazzi Ve lo dico Non parlerò Tanto Perché sono Anch'io Concentrato Con voi E' qui Fare Questo Sta mettendo Dei magneti Sta creando Mi pare Un cannone Con Magneti Infatti Guardate E' Mitraiatrice E' Scusate Vabbè Seguo Anch'io Lion Cioè Raga Bellissimo E' Soddisfacente Pure Fatto Bene Tipo Prima Anche Incollato E' Niente Ironman Andato Ironman Andato Ma Spider-Man Ancora Vivo Sicuro Ora Che ho Parlato Sicuro Ora Ci scommetteremo Pure Il resto Ecco Io l'avevo Detto Pecchi Parla Pecchi Poverino Spider-Man Non ha Fatto Niente Ancora Vivo E' La E' Niente Si mette Male Si mette Molto Male Si mette Male Allora E' Ma Quello Lì Proprio Sbatte Tutto Guardate Ha colpito Spider-Man In pieno E l'ha Fatto Cadere Non ha Colpito Però Lui Proprio Uh Cannone Con Ah Tipo Questa Ricarica Una Ricarica Bellissimo Lo sta Distruggendo Però Raga Fa pena Cioè Tutto Quello Tempo Sprecato Per Fare Una Struttura E poi Romperla Vabbè Ovviamente Ragazzi Tutti Ci piace Tipo Il mondo Distrutto In Giochi In Giochi Come per esempio GTA Ci piace E Vederelo Soffrire Ragazzi In alcuni giochi Però Dico In giochi La sta Proprio Mazzacrando E Niente Cade Giù Cade Giù E Niente Però Non è che Si è Distrutta Cioè Ha solo Una pallina È stata Un po' Infame E ha fatto Cadere Ma Non è che Distrutta Cioè Va È Ancora Viva Ah no Finisce Il video Io avevo detto Ancora Viva Un po' strano Vabbè Ragazzi Che facciamo Mi potrei anche Stoppare ora Perché Questi video Raga Durano poco Quindi Mi potrei Stoppare Quindi Allora Allora Ragazzi Spero che Questo video Vi sia Piaciuto E No Perché Mi ricorda Ancora di fare E raga È da tanto Che faccio L'outro È da tanto Quindi Spero che Questo video Vi sia Piaciuto E ci vediamo Ad un prossimo video Il motore che viene Ad un prossimo video Ciao